Una delle rappresentanti del comitato, che è stata sempre un punto di riferimento del comitato, che è stata un leader del comitato, ha definito la mia persona, tutta la giunta e l'amministrazione comunale come degli assassini di bambini. Io la ringrazio per l'onestà, perché probabilmente questa è la punta di un iceberg che dimostra il clima comunicativo che ha scandito questi mesi e che ovviamente non avevo visto perché di fronte alla persona è più difficile. In genere quando la persona interessata non c'è, si dice il doppio. Ora io il doppio di assassino non so che cosa sia. Un confronto acceso, quello tra il comitato Giulemani D'Alemenza e l'assessore Lucia Tanti, che si è bruscamente interrotto al centro del dibattito, ancora una volta la supermenza. Un diverbio non può vanificare il lavoro svolto, scrivono dal comitato, il nostro pensiero è contenuto nel manifesto dello scorso dicembre per il quale non abbiamo ancora avuto una risposta. L'incontro per il comitato era molto importante, aveva subito slittamenti e sembrava l'unica chance per poter dialogare. Nel momento in cui si è capito cosa stava succedendo, un genitore preso dallo sconforto ha reagito. Il comitato, pur discostandosi da tale comportamento, non accetta che l'assessore abbia colto il pretesto per interrompere i rapporti. A questo punto chiediamo che l'amministrazione trovi un modo per riaprire il dialogo. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha il ruolo giusto per prendere in mano la questione e concludono a lui ci rivolgiamo per far sì che tutto il lavoro fatto fino ad ora non venga vanificato. Il dialogo si apre con i cittadini e con i genitori, quello non si è mai chiuso, anzi quello si rafforza, c'è tutto il tempo per poter approfondire ancora un percorso che è un po' segnato, nel senso che poi alla fine, quando è che ieri è venuta fuori questa affermazione che evidentemente è in animo da tempo? E' poi venuta fuori quando prendendo in analisi la proposta del comitato, cioè di rafforzare le 12 cucine, abbiamo esistenti sulle 58 scuole servite, abbiamo in qualche modo dimostrato metro per metro che noi oggi abbiamo delle difficoltà ad ampliare con le cucine, a meno che, almeno per tre delle nove, a meno che non si voglia restringere gli ambienti didattici, cioè posso fare cucine più grandi e aule più piccole. Io su questo qualche dubbio ovviamente ce l'ho. Proprio in questo confronto sulla metratura e sulla inadeguatezza strutturale delle attuali 12 cucine che servono le 58 scuole è uscita fuori questa parola assassini e quindi evidentemente non credo che sia una cosa nata ieri. Quale sarà l'iter che verrà seguito da oggi in poi? Quello che facevamo anche ieri, cioè continuiamo a parlare con le persone interessate, ieri abbiamo fatto l'ultimo incontro con i comitati Mensa, il 19 di febbraio c'è l'incontro con i dirigenti, il 21 di febbraio ancora una volta l'incontro con i sindacati e poi porteremo tutto l'incartamento in giunta e prenderemo una determinazione che qualunque essa sia segnerà la città per i prossimi 30 anni. Quindi è evidente che lo facciamo con pazienza, è evidente che lo facciamo con coscienza, è evidente che lo facciamo con conoscenza. Sono tutte queste tre caratteristiche che io credo che dobbiamo tutti utilizzare. La conoscenza delle cose, cioè sapere che noi produciamo mille pasti in più al giorno in strutture che sono inadeguate da un punto di vista dello spazio e delle modalità organizzative, non di sicurezza, ma mille pasti in più non possono essere una regola. La coscienza di volerci mettere le mani per migliorare e la pazienza di ascoltare tutti quelli che hanno qualcosa di intelligente giustamente da dire.